musica e am selezione 1 a 0 gol di giovine pregh e am balletta giusto mi ghiaccio mi ghiaccio come è stata la partita 1 a 0 è stata un po di secondi dalla fine poi una sciocchezza 0 a 0 0 a 0 la partita ci sta sedo nel finale si è purtroppo succede un po di errori dietro succede del secondo tempo la tattica quale sarà giocare sulla solita la solita vincere ciao ciao i due gemelli andiamo da giovine giovine 1 a 0 gol nel finale che mi permette di portarvi in vantaggio come state giocando la parte è combattuta penso alla fine un po fallosa da parte loro abbiamo avuto diverse azioni da gol finalizzato però penso che continuerà bene secondo te c'è qualcosa che non sta funzionando negli am no no bene o male il centrocampo va bene la difesa anche l'attacco stiamo sbagliando qualche gol però ci rifaremo ok il buco al nuovo per secondo te prima Teraiva di EAM contro Selecciolo il risultato mi sembra 5 a 1 se non sbaglio comunque passate alle semifinali e avete fatto una grandissima partita secondo il mio punto di vista invece secondo il tuo come avete giocato penso che oggi forse nel primo tempo abbiamo diciamo non abbiamo giocato come è solito però nel secondo tempo ci siamo ripresi e comunque si è visto penso che oggi la squadra avversaria si è lamentato un po troppo che penso che alla fine abbiamo giocato molto meglio noi bravo e lei EAM a cosa punta al secondo titolo consecutivo che dici? credo proprio di sì speriamo bene ok io vado a dire la prestazione a tutta la squadra e al nostro amico Mariano Francesco ok ragazzi in bocca a loro per la semifinale ciao ragazzi premiazione grazie ciao Ivan ciao 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 ciao